I numeri di oggi parlano di altri 53 nuovi positivi al covid in Canton Ticino e di due ulteriori decessi. I dati sui contagi registrati nell'ultima settimana hanno toccato di nuovo una crescita a tre cifre, 100, nella giornata di mercoledì 17 marzo. Ieri erano 90. Una situazione che non consente ancora di allentare le misure. Il Consiglio federale ha infatti disposto di mantenere le attuali chiusure per bar, ristoranti, sport e cultura fino a dopo Pasqua. L'unica modifica riguarda gli incontri privati al chiuso che da lunedì potranno avvenire con la partecipazione fino a 10 persone, attualmente il limite è di 5. Le decisioni sono state recepite da tutti i cantoni. In Ticino in particolare il Consiglio di Stato prosegue con una linea anche più rigida rispetto al resto della Confederazione. Il governo cantonale chiede infatti ai comuni di rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, specialmente dove ci possono essere assembramenti o il passaggio di più persone. Nella nota ufficiale diffusa il Consiglio di Stato ringrazia quei comuni che hanno già risposto positivamente all'invito lanciato qualche giorno fa di introdurre l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi aperti molto frequentati. Il cantone ha chiesto l'obbligo per tutti gli spazi pubblici, centri urbani, zone di svago, aree a lago, per i quali è lecito prevedere un forte afflusso di persone soprattutto nel prossimo periodo di Pasqua. Il Consiglio di Stato, si legge ancora, è consapevole della stanchezza che serpeggia tra la popolazione ticinese dopo più di un anno di pandemia e di misure restrittive, ma considera fondamentale che tutti aderiscano allo sforzo collettivo di responsabilità che è richiesto. Riguardo alla campagna vaccinale, infine, dalla prossima settimana verranno coinvolte le persone con malattie croniche ad alto rischio. Finora in Ticino sono state somministrate più di 53.000 dosi, oltre 22.000 le persone che hanno già ricevuto prima e seconda dose.